L'inflazione resta elevatissima in Italia, una situazione drammatica per i consumatori con gravi ricadute sull'economia nazionale a dare l'allarme il Kodakons che parla di salasso per le famiglie. L'invito è a calmierare soprattutto i prezzi dei beni primari, cittadini campani sempre più in difficoltà. Andiamo cercando prima i prezzi, se sono buoni, se ha roba si può prendere e poi facciamo la spesa. Pane, latte, la frutta, pesce, tutto è aumentato. Una famiglia con i bambini non ce la possono fare. Il governo, la regione, i comuni non intervengono sulle necessità primarie. I piccoli esercenti si difendono ammettendo di subire queste speculazioni. La gente sta cercando di spendere poco perché non ce la fa più con lo stipendio, questa è la problematica. È molto difficile arrivare a fine mese, è vero. Tutti i prodotti aumentati, la paga è sempre la stessa. Però non è colpa dei titolari, purtroppo è la vita che si è fatta più cara. La speranza è che con il nuovo governo si ponga rimedio a questa situazione. Spero che il governo, questo governo nuovo, si metta un pochettino in atto e vede un pochettino che deve fare con tutta questa situazione, che non ce ne può più. Le tasse non si fermano mai. La gente non riesce ad arrivare a fine mese, è impossibile. Si dovevano raddoppiare stipendi e pensioni.